La ballerina Rebecca Ferreri ha affrontato una sfida inaspettata durante il daytime di Amici, andato in onda il 21 novembre. La sua coach ha deciso di anticipare la sfida con Dandy, causando la perdita della stessa e l'eliminazione dal talent show. Dopo la trasmissione, Rebecca ha condiviso il suo stato d'animo su Instagram, smentendo voci su un presunto ritiro dal programma. Ha dichiarato di non aver mai pensato di abbandonare il suo sogno nonostante l'eliminazione improvvisa. Nonostante la delusione, la ballerina ha ricevuto un grande sostegno dai suoi fan, che credono fermamente nel suo talento e nel suo futuro brillante. Rebecca ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha manifestato la determinazione a continuare a perseguire il suo sogno. Il futuro di Rebecca potrebbe essere influenzato dalla sua resilienza e dalla sua determinazione a non arrendersi di fronte alle difficoltà. La ballerina ha espresso il desiderio di rivedere i suoi compagni di viaggio al serale e di continuare a coltivare la sua passione per la danza.